ciao ragazzi oggi sono in compagnia della nuova nata in casa scott super track 2.0 andiamo nel dettaglio a vedere questa scarpa è una scarpa completamente ridisegnata il mesh e la tomaia sono comodi e anche abbastanza volgenti la cosa interessante l'abbiamo nella linguetta ricostruita completamente molto morbida come anche il collarino dietro per il tendine d'achille l'inter suola abbiamo una mescola molto morbida che si adatta ad ogni tipo di terreno riusciamo a percepire la morbidezza anche nei terreni più duri la suola abbiamo un grip veramente pazzesco adatto a tutti i tipi di terreni va bene sul fango ma anche non disprezza il troppo duro la vedete qui nelle nostre varianti colore due colorazioni uomo sia rossa che blu e nella colorazione azzurra per il donna vi aspettiamo a provarla nei nostri negozi o anche online ciao